Scadrà il 30 aprile la convenzione con cui la ditta Comfort Service, consorziata del gruppo Manital che gestisce le attività di pulizia nei locali dell'Università di Messina e la Will Trasporti, manifesta tutte le sue preoccupazioni per il prosieguo occupazionale delle 70 unità lavorative impiegate. Un'avvertenza lunga e complessa quella dei lavoratori del settore di pulizia dell'Unime. Abbiamo l'urgente necessità di confortarci con la committente per verificare i contenuti del nuovo bando e l'eventuale ricaduto occupazionale, dichiarano Michele Barresi e Rosangela Grasso della segreteria della Will Trasporti Messina. Ma ad oggi l'università è rimasta sorda alle nostre richieste di incontro. Alla luce della grave crisi in cui versa il livello sia nazionale che cittadini nel settore del pulimento, continuano Barresi e Grasso, abbiamo l'esigenza di valutare le garanzie occupazionali eventualmente incluse nel nuovo appalto di pulizia e di igiene ambientale dell'Ateneo, ma anche il volume complessivo delle attività previste per evitare un ulteriore gioco al bidribasso delle ore lavorate a danno dei dipendenti. Non consentiremo, proseguono i sindacalisti in un contesto cittadino già fortemente depresso, ulteriori macellerie sociali operate sempre a danno dei lavoratori, che già da anni ad ogni cambio appalto hanno visto ridursi il numero delle ore di lavoro mensili, raggiungendo salari e condizioni lavorative sempre più precarie.